Buongiorno, eccoci di nuovo qui. Questa camminata è arrivata alla sedicesima edizione, purtroppo un po' contrastata dal tempo quest'anno perché avendo piovuto fino alle prime ore dell'alba effettivamente ci mancano un po' le famiglie. Comunque concorrenti ce ne sono, abbiamo già superato le 300 iscrizioni e possono partecipare alla gara, le iscrizioni sono aperte fino alle 10, per cui speriamo che arrivi altra gente. Io volevo ringraziare Antenna 2 che è sempre vicino a noi in questa manifestazione, sia prima che durante e i sponsor che ci hanno dato la possibilità di poterlo organizzare, altrimenti diventa veramente difficile creare questi momenti di aggregazione. Allora, il fatto di essere qui comunque a camminare con i Vigili del Fuoco è nell'intenzione nostra, di questa associazione, del gruppo sportivo, di unire sì le famiglie dei Vigili del Fuoco per ritrovarci qui, ma anche di far conoscere a chi viene il nostro lavoro su questo territorio di Clusone e dintorni, cioè far capire che la caserma c'è, che ci siamo e che siamo vicini alla popolazione di questo territorio.